rispondete alla domanda a cosa serve andare su marte e scoprirete che questa risposta non c'è tenete presente un fatto che è interessante l'ultima sonda cinese che è andata sulla luna diversi anni fa ha dopo un paio d'anni elaborato le fotografie le fotografie non la rese pubbliche ai giornalisti le ha date alla nasa e la nasa che dopo averle ritoccate abbondantemente le arese pubbliche quindi questo vuol dire che c'è un accordo tra le varie agenzie spaziali del mondo per dare una visione della mappa del territorio che sia coerente gli stessi scienziati russi hanno abbandonato l'idea di conquistare la luna ci sarà un motivo politico perché non vogliono più andare sulla luna e hanno deciso che forse è più interessante marte i servizi segreti russi su youtube ci sono le loro dichiarazioni che io ho visto qualche anno fa dissero chiaramente dopo mezz'ora dallo sbarco dell'apolo 11 sulla luna c'eravamo resi conto che era tutta una montatura servizi segreti russi io non dico credete ai servizi segreti russi io dico questa è una cosa che i servizi segreti russi pubblicamente tacitamente senza problemi hanno detto i russi da quel momento in poi non sono più non hanno più avuto il problema di andare sulla luna non viene importava più nulla forse perché avevano capito che non era necessario partecipare a questa pantomima e si sono dedicati ad altre cose poi ci sono stati momenti politici particolari che la russia insomma tutti quei soldi da buttare da buttare veramente non servivano a niente i russi avevano bisogno di mangiare di trovare i fondi per far mangiare i loro cittadini Grazie a tutti